Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per incidente tra Val d'Arno e Firenze Sud. Ci sono poi code per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il Bibio per la variante di Valico. In A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPILI per lavori, 1 km di coda in aumento in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. In direzione Firenze, rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla A11. Tutte le info sui nostri canali social. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!